buonasera a tutti e benvenuti benvenuti oggi a questo webinar oggi dobbiamo parlare per quanto riguarda opera la case surgery del trattamento del rino filler sto parlando in italiano perché mi dicono che il pubblico collegato tendenzialmente sono tutti colleghi italiani quindi poi ovviamente ci sarà anche tutta quella che è la parte della question time può essere fatta tranquillamente in italiano e non in inglese opera diciamo che la famiglia dei filler opera si divide in quattro tipi di filler opera 1 2 3 e 4 i classici filler d'avviso e oggi prendiamo in considerazione diciamo quelli un pochino più strutturati che sono opera 3 che vengono utilizzati prevalentemente per solchi diciamo medio profondi come ad esempio i solchi naso labiali marionettes line trattamento del rino filler per l'appunto zone tempiali e tutte quelle che sono solchi diciamo abbastanza profondi in pazienti diciamo con un'età prevalentemente superiore ai 60 anni quindi nella mia esperienza io vado a correggere anche solchi sul terzo malare quindi solchi delle guance con questo tipo di filler è una confezione ovviamente da 1 ml ha un concentrato di 24 milligrammi su ml e all'interno troviamo due aghi da 27 gauge ha un ph 7 come tutti i filler opera diciamo la durata media si varia diciamo dai 6 agli 8 mesi per quanto riguarda il filler successivo è il così chiamato opera 4 e è il classico filler volumetrico cavallo di battaglia dell'azienda con questo filler nella mia esperienza ho trattato ovviamente i grandi volumi del viso quindi quella che è chiamata la jawline quindi l'ovale del viso la linea ovviamente mandibolare il mento arcata zigomatica ma diciamo in casi di rino filler estremi lo utilizzo anche per correggere nasi particolarmente con difetti importanti questo è un filler lievemente più concentrato 25 milligrammi per ml ha una durata media lievemente maggiore dell'opera 3 diciamo studi hanno dimostrato una durata di circa 12 mesi e all'interno della confezione vi è l'ago da 25 gauge anche qui ha un ph di 7 per quanto riguarda il rino filler prima cosa un pochino di anatomia faciale diciamo che la cosa fondamentale da sapere quando si va a fare un rino filler non mi voglio dilungare su tutta la muscolatura faciale che però ci sai c'è qualche collega che interessa ovviamente ci possiamo soffermare o eventualmente possono richiedere poi anche le slide all'azienda in modo tale da potervele dare in visione cose importanti allora innanzitutto come tutti noi sappiamo l'innervazione della faccia è divisa in due grandi aree l'area sensoriale che è dovuta ovviamente al trigemino diviso in tre branche la branca oftalmica macellare e mandibolare e ai nervi motori in particolare diciamo bisogna riconoscere questa importante differenza perché sarà poi la base ovviamente della conoscenza anatomica per fare tutto quello che è il trattamento fasciale. La parte sensoriale come dicevo è appunto a carico del trigemino e la conoscenza è proprio importante in particolar particolar ragione quando si vanno a praticare dei blocchi anestetici blocchi anestetici io personalmente nella mia esperienza li eseguo soprattutto quando si va a fare il rino filler o anche nel trattamento labiale qualora il paziente non vuole avere alcunché fastidio durante la procedura quindi è importante ovviamente la conoscenza dell'anatomia. Arterie, anche qua è assolutamente importante la conoscenza per evitare complicanze. La complicanza più temuta ovviamente dall'iniezione di filler non è altro che un'embolia da filler e che vedremo più avanti. Il mio landmark diciamo della cosiddetta deadline è il muscolo massetere al davanti di questo muscolo si distacca l'arteria facciale e la vena faciale denominata appunto linea della morte o deadline. Questa è una linea dove dobbiamo far veramente molta attenzione, molta cautela durante le manovre di infiltrazione con acido ialuronico. Ovviamente la conoscenza dell'anatomia è come già detto fondamentale per evitare le complicanze quali complicanze di ischemia da embolia. Queste non sono, non so se a voi vi è mai capitato, diciamo non sono rarissime, sono molto più frequenti rispetto a quello che diciamo un medico alle prime armi possa deputare. Ecco queste sono proprio lesioni vescicolari da ischemia locoregionale da inoculazione di filler all'interno dei rami terminali dell'arteria fasciale, comprese ovviamente ischemia delle ali nasali. Comunque detto questo, cosa chiedono adesso i nostri pazienti? I nostri pazienti chiedono di migliorare ovviamente la loro faccia ma anche il loro corpo in modo molto sicuro e non invasivo con una immediata direi ritorno alla vita, alle attività quotidiane e che spesso la classica frase è dottore mi raccomando non voglio che mio marito, il mio compagno, mia mamma, mia sorella si accorga di un grande cambiamento. Quindi è importante trattare il paziente e parlare in maniera diciamo accurata con il paziente prima del trattamento medico e spiegargli bene, capire bene quali volumi possono essere necessari per ottenere l'efficacia desiderata del paziente, quindi quante fiale sono necessarie ed eventualmente anche quanti step di trattamento sono necessari per raggiungere il desiderato effetto dal paziente. Per quanto riguarda il rino filler diciamo che quello che è fondamentale è ovviamente arrivare a una simmetria del naso e a delle misure armoniche. Esistono in letteratura quelle che sono delle assolutamente degli standard dimensionali di quelli che alcune misure del nostro naso devono avere, in particolare il cosiddetto angolo naso labiale come vediamo in diapositiva che è l'angolo che si crea tra la base del naso, quindi la columella e il labbro superiore. Questo angolo dovrebbe essere tra i 90 e i 110 gradi nelle femmine e tra gli 80 e i 90 gradi nei maschi, leggermente maggiore nei pazienti afroamericani e asiatici. L'ulteriore, il secondo diciamo importante angolo da tenere di conto è il naso frontale, quindi vediamo nell'immagine in basso a destra e questo angolo dovrebbe essere all'incirca di 150 gradi, quindi è l'angolo che crea la zona della fronte del paziente con il dorso del naso. Altre misure fondamentali sono i rapporti che le misure del naso devono avere, in particolare l'altezza del naso dovrebbe essere circa un terzo dell'altezza complessiva della faccia, come si vede ovviamente nell'immagine qua a destra, e per quanto riguarda la larghezza dovrebbe essere non più di un quinto della larghezza complessiva della faccia. Ovviamente questi sono dei canoni scientifici, ma quello che è importante è dare armonia al naso rispetto ovviamente al viso del paziente. Tecnica del rinofiller, questo è uno schema veloce, local anestesia, yes, nel senso che io personalmente eseguo sempre una piccola anestesia locale prima di procedere con il rinofiller. Ago o canula? Nella mia esperienza utilizzo entrambi, utilizzo entrambi perché esistono ovviamente molti difetti di vari nasi e sulla base del difetto possiamo decidere se utilizzare la canula con accesso nella punta del naso e di conseguenza avere uno spazio di manovra frontonasale e su tutto quello che è il back nose, cioè tutto il dorso del naso, o a volte quando il difetto è solo l'angolo frontonasale, naso frontale, possiamo utilizzare solo ed esclusivamente l'ago. Quindi in base al difetto si decide se utilizzare ago o canula. Quale filler? Beh, più il filler è volumetrico, più è coesivo e meglio è. Questo non solo per avere un effetto più durevole, un effetto migliore, ma anche per avere un inferiore rischio di embolia. Quale punto di accesso? Beh, per quanto riguarda il punto di accesso, lo vedremo poi anche nella live section, la cosa fondamentale è rimanere assolutamente nella linea mediale del viso del paziente, che sia sulla punta del naso o al centro della columella. L'importante è rimanere sempre sulla linea del naso, proprio per la vascularizzazione delle cartilagini stesse, che deriva ovviamente da rami terminali dell'arteria faciale. Volume da iniettare? Beh, solitamente per fare un rinofiller, solitamente una fiala è più che sufficiente, diciamo che i volumi medi variano fra gli 0,4 ml quando il difetto è minimo, fino agli 0,8, 1 ml, quindi una fiala quando il difetto è veramente importante. Qualche carrellata di miei pazienti, di miei casi, questa è una signora di 55 anni, dove abbiamo semplicemente alzato un pochino la punta del naso e raddrizzato il dorso del naso. Ovviamente sulla sinistra vediamo il prima, sulla destra vediamo il dopo. Ragazza di 18 anni, qua aveva un problema sul dorso del naso e la punta un pochino aquilina e ovviamente ho cercato di correggere con quello che il rinofiller può dare questo tipo di difetto. Altra paziente, 58 anni, problema prevalentemente di dorso del naso e lievemente sulla punta, vediamo un angolo naso frontale un pochino troppo chiuso, quindi ho sistemato il dorso del naso, diciamo a livello del terzo superiore del naso, determinando una rettilinezzazione di quella che è il dorso del naso stesso. Ragazza di 17 anni, piccola gobbettina del terzo superiore del naso, anche qua stesso lavoro, ho rettilinezzato quello che era appunto un naso lievemente gibboso sul terzo superiore. Ragazza di 27 anni, con stessa cosa, quindi dorso del naso un pochino a schiena d'asino e punta del naso tendenzialmente aquilina. ragazza di 30 anni, dove ho corretto il dorso del naso un pochino la punta. Ragazza di 29 anni, stessa cosa, rettilinezzato il dorso del naso e sollevato la punta. In questo caso è molto evidente l'aumento dell'angolo naso labiale da prima del trattamento a dopo del trattamento. In questo caso ho sollevato anche la columella. Altro caso, ragazza di 42 anni, ovviamente questa era una ragazza che doveva andare in sala operatoria a fare una rinoplastica, intervento che però la paziente non ha voluto fare per evitare l'anestesia generale, la sala operatoria e tutti quelli che sono di esiti di una rinoplastica. Ho cercato ovviamente di fare il meglio con un rinoplastica. Ovviamente non è un risultato perfetto, ma decisamente migliorativo rispetto a quello che era la situazione pre trattamento. Questo è l'altro profilo. Bene, per quanto riguarda la presentazione scientifica, siamo pronti. Se ci sono domande su quella che è la presentazione, posso un attimo tornare indietro e riparlare ovviamente di quello che più interessa, altrimenti ci prendiamo due minuti di pausa per prendere il paziente e iniziare con la live section. Perfetto, allora se non ci sono domande ci scolleghiamo un attimo, 3-4 minuti il tempo di preparare tutto quello che è necessario per la live section e partiamo.